E' bello a tutti ragazzoni, io sono Franco Bollo Oggi ragazzoni, siamo qua in questo nuovo video Non in un nuovo Tycoon, perché siamo tornati nel Tycoon degli zombie Ce l'avamo fermati a questi zombie qua A livello 4, grande, ok? E' oggi siamo qui appunto per migliorare anche questi zombie, no? Anche se abbiamo capito che è molto difficile E' allora, andiamo intanto qua e iniziamo a fare questi Ora, ah, ma guarda quanti soldi ho Più talmente zombie Vorrei farlo, eh, vuol dire che non ci entrano mai, però Ma più dieci, ma sì Di tutti li ho riempiti Eh, ok Fusione Ok, è nato uno di quelli Bene, direi Eh, ma c'era tipo, eccolo qua, il mio pulsante preferito, no? Tre bisognava averne, giusto? Aha Ok, basta farne di nuovo dieci Fusione Di nuovo dieci No, dai, mi manca pochissimo Ah, già ne abbiamo molti di più, ecco Diciamo così Ok Ora Fai questo, altri dieci E fai fusione Dai, un Una guardia! Ok, quindi mi si è fatto quello grande E poi Questa Mi si è fatta questa Il livello 5 La guardia Quanto guadagni con lei? Eeeh, la madonna Ragazzi, ma è tantissimo La guardia mi fa guadagnare un bot, signori Ok, ora però Con i soldi che facciamo Io direi di migliorare il nostro terreno Tanta gap È la madonna Eeeh, cioè non questo qua È tanto Questo qua Di sotto 850, 2 milioni Ma come? Ma io non me li ricordavo Così Così Tanto Alti Questo qua è l'unico, ragazzi L'unico più basso Di 10.000 Vabbè, aspetta Non è possibile che sia solo questo basso Cioè questi qua costano troppo Ma non posso fare questo Cioè 850.000 Ma che ci arriva? Ma what? Fai questo Eole Oh madonna Ah, qua ci sono È la mia collezione Ci sono tutti I zombie che ho al massimo livello Quindi lui l'ho sbloccato Lui pure Vabbè, lui pure Lui pure Lui pure E quindi qua c'è tipo la collezione Degli zombie Più Rari Che ho mai sbloccato io Ok Va bene Comunque Raccogliamo tutte queste palline Ole Ora Fussuioniamo Anche questo 6.800 Ci sta Aspettiamo Che sa' sta cosa? Più quattro tasso Boh Non so Ah mi aumenta La velocità Della Della fusione Bello Vai vai Usala tutta Se Vai Sprechiamo i soldi così Ok basta Li ho finiti A posto A posto Ma qua tipo Non si potevano prendere Mi ricordavo bene A posto Tipo qua non c'era un bosso Oppure comunque Questo qua E quello più alto Ah li zombie Siciliano giusto Giusto Me l'hanno già scordato Vieni qua Brutto Pezzente Vieni qua Tanto non mi fai niente Poco e niente Anzi Poi la pistola Che faceva solo 10 E poi c'era questa Che mi pare Che toglieva 15 Oppure di meno Ma era tipo a mitra Non lo so Aspettate che trovo uno zombie Eccolo E Prrr Ah ecco Molto di meno Però era a mitra Ok Sì 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 Ok Ora raccogliamo Tutte le palline Ah a posto Che si dice Che sia una cacca di zombie No scherzo Oh qua si 10.000 in più Dai ci sta Dai che è così finito Vai Oh finito A posto abbiamo 28.000 Io direi di fare Più 10 zombie Difonderli Vediamo Ok Va bene Ora prendiamo tutte le palline Intanto che abbiamo preso Fino ad ora Così rifacciamo la fusione So che ho fatto più uno zombie Sì ma va bene E ok Fusione ancora non ne possiamo fare Purtroppo Che bello tutte queste cose qua Va bene Allora Andiamo a fare la La pad sample machine Così possiamo 145.000 Eeeh Più 1000 zombie Sì Vabbè Comunque Più 10 Fusione Ok Abbiamo due di quelli Ora Arrivo a 16k Non solo con questi Purtroppo Piano piano ci arrivo E compriamo I più 10 zombie Un'altra volta Ora Quanto mi manca Ci arriviamo Non ci arriviamo Però fra un po' Sì Calmiamoci Eeeh Voila Ora sì Denaro più 20% Cioè io lo faccio Entrando nel gruppo E centro Non me ne frega Ma giusto che qua c'è lo sprint Non si può correre Tenendolo premuto Ma come Ci sarà un tasto Sì Shift A posto Così Ehm Tipo Tipo Ma se tipo Andiamo ad ammazzare qualcuno Ma se tipo Tipo No Scherzavo Tizio Oh Uccidilo L'ho ucciso Sono fortissimo Signori Visto Che è forte E via c'è Oddio Alla R lui Però io sono Comunque Più forte Mi so spaventato Un bot Ehi Eri qua Questo qua Oh Fa male Guardi da lui Bravo Uccidilo No Boss Boss Vieni qua Boss Vieni qua Ti attrago Non da quanta vita Sì Vabbè Ci vediamo dopo Via Qual è il mio No Dove è il mio ragazzi No L'ho perso Per sempre Eh Questo qua Forse Blu Forse sì No Oh sì Dell'utente Sì A posto Ora Non è questo Mi so Ok Per sbaglio Vi giuro Che era per sbaglio Ho fatto più dieci E funziona È nato uno Col pollo Scusatemi Non l'ho fatto apposta Ora Ora farò Per farmi perdonare Quindi raccogliamo tutto Mettiamo Che sono qua Ci mettiamo Tre anni Ok signori Dovremmo esserci 52 Sì Più 30 Zombie Oddio Ma io mica Me ne ero Accorto Che sopra C'erano I cosi No Ma lo voglio Rifare Sì Tanto per Per perdonarmi Un po' di più Per prima Ma sì Oddio Quanto lagga Guardate quanto vengono No Ma ce ne sono un botto Mi devo stare così Come minimo Devo mettermi qua Ogni due secondi Praticamente Cioè Tutti Gli zombie Che fanno un movimento Fa abbastanza ridere Però Vabbè dai Guadagnavo un botto Così Subito Mamma mia Sì Poi ne faccio Un altro da 30 Madonna Diventa Fino all'infinito E oltre Praticamente Bellissimo Oddio Santo Quanto tempo Cioè si riempie tutte Sono solo 2000 Dai Che signori Ce l'avevo fatta Ce l'avevo fatta Ok 30 zombie 1 2 3 4 Ancora siamo al quarto piano Fatto 1 2 3 4 5 6 7 Cosa Oddio Ma io non mi fermo qua Sapete che faccio Voglio la fila completa Voglio la fila completa Voglio la fila completa L'ultima Deve essere Stracompleta Signori Poi faremo la fusione Madonna Ok La completo E poi vi dico Ok Credo che Manca solo uno No Per uno No Sono quattro 1 2 3 4 Ok Più tre E più uno Facciamo Questa qua sarà la mia copertina del video No ragazzi Allora Sono davvero scandalizzato Io ho fatto la fusione Ce l'ho già fatta Non mi ha registrato Perché Comunque ho fatto solo questo Quindi mi aspettavo molto di più Tipo Un livello nuovo Ma niente No ragazzi Non mi ha registrato l'ultima parte Mannaggia me Mannaggia Oddio Scusatemi Comunque Grazie a questa fusione Che abbiamo fatto Si guadagna molto di più Anche con poche palline Palline Se possiamo chiamarle così E vabbè Mi aspettavo di più Comunque niente Spero che il video vi sia piaciuto Comunque Scusatemi per questa Questa fine un po' drastica Così Ecco Mettiamola così E niente Spero che il video vi sia piaciuto Comunque Se vedete su tutti i miei social C'è il link in descrizione Soprattutto su Instagram Non ci tengo Tony Swiglinson Account personale Account che uso per YouTube Franco Bollo 9215 E Seguisimi anche sul sito Viola Link in descrizione E niente Ricordatevi di lasciare un bel like Iscrivendovi Attivando la campanellina Per non perdervi Ulteriori live O video E niente Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre Lasciate un bel mi piace E il video è finito Andate in pace Bella ragazzoni Ciao Che bella faccina Ciao Ciao Grazie a tutti.